Un saluto a tutti da Snoghills e ben ritrovati in un nuovo video su Super Mario 3D World. Allora, siamo arrivati al mondo castello e ci tocca fare il primo livello. Quindi, non perdiamoci in chiacchiere e andiamo la fortezza dei Fuocobros. Castello 1. Allora, qui... Prendiamo al volo il fiore e ci ne andiamo a beccare un bel niente qui. Allora, palle di fuoco. Allora, te lo mando pure io. Oh, oh. Ok. Va di là e noi passiamo invece di qua. Easy. Qui ci sarà qualcosa, sicuramente. E infatti, infatti, un one-up. One-up e... Oh, 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 oh. Devo salire qui. Giù. Ah, vabbè, una stupidissima monetina. Oh, oh, oh. Timbrino. Se lo aspettava questa cosa. Perfetto. Monetine e andiamo. Stellina presa, quindi non ci siamo persi niente. E già la bandierina ci troviamo. Già la bandierina. Allora, qui conviene contare bene. Tanto potete sentire tranquillamente il gatto, che fa un casino come al solito. Ormai vi sarete abituati. E andiamo qui. Prendiamo... Prendiamo... Mettiamo da parte... Ah, qua che succede? Escono da di qua, quindi adesso possiamo andare qui. Perfetto. Allora, adesso dobbiamo prendere questa monetina. E non so se conviene buttare giù prima questi. Forse conviene. Forse conviene. Ce li leviamo, perché sicuramente apparirà un qualcosa. Ah, infatti. Facciamo così. Così. Monetina. Ah, ci siamo saltati una stella. E dove? E dove? In quest'altro tunnel? No, questo è quello che abbiamo preso. Ci siamo saltati una stella. E dove sta sta stella? Non ho più palle idea, perché ho preso la prima e questa è la terza, addirittura. Veramente strana questa cosa. Deve stare prima. E qui sopra, forse, su uno di questi cosi. Allora, proviamo a salire sul tubo, poi salire qua. Prendere il timer. Allora. Deve essere da qualche parte qui. Allora, proviamo un po' qua. Eccola. Mi sembrava un po' strano. Cioè, in uno spazio così ravvicinato. Allora, cosa succederà? Eccola. Eccola. Così. Così. Eccola. Eccola. Perfetto. Ci siamo. Ottimo. Ottimo. Excellent. Un artista. Un artista del salto. Quindi andiamo per di qua. E dopo averle prese tutte, perché ci tenevo questa, da dove mi poteva essere scappata in un metro quadrato. Andiamo per di qua. Oh, 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 oh. E' qui? No, no. Scappa, scappa. Ok. Una è tu. E qui, avendole prese tutte, non ci resta che entrare in questo cubo. E abbiamo finito il livello. No. Non gli piace. Allora. Ma perché ho fatto così? Ce lo chiediamo tutti. Ehm... Invece non ne abbiamo preso 10k. Che sai? Devo dire, ragazzi. Questa cosa che non hanno messo il one-up. Sulla punta della bandiera. E' una cosa non triste. Di più. Di più. Quasi malinconica. Allora. Ho superato il primo. Si apre questa strada. E quest'altra strada. Allora. Andiamo subito. Subito. Qui. Qui. Matto. Antrotenebroso. L'antrotenebroso. Benissimo. Ah. Che cosa è questo? Che succede? Che succede? Che succede qui? Ehm... E' un altro tenebroso, ragazzi. Ce l'abbiamo già. Ce l'abbiamo già. Perché non l'abbiamo toppato prima. Quindi... Mmm... Un livello che si vede così. Dall'alto. Dall'alto. Vabbè. Easy. Easy. Ehm... Ci staremo perdendo già... Pacchi di stelle. Secondo me. Perché... Qui da qualche parte... Sono sicuro c'è una stella. Forse... Forse... Qui... Dietro? No. Ma... Non lo so. Non lo so. Non lo so se non c'è una stella qui. Forse sopra? No. Mmm... Non ne vedo. Non ne vedo. Quindi... Proseguiamo. Proseguiamo. E... Da qualche parte dovranno stare queste stelle. Questo che roba è? Ah... Ma... Forse si accende. Si accende... Per vedere che cosa... Un bene amato nulla. Ok. Ok. Mmm... Non... Non... Non vedo stelle. Questa cosa è proprio strana. Ok. Preso. Preso. Gatto, ragazzi. Fa un casino atroce. Qua, secondo me, accendendole tutte e quattro... Fa... Vediamo. E' la prima. E' la prima. E' la prima. Va bene, va bene. Quindi... Ci siamo. Ehm... Diventa... Visuale standard. Ok. Ah... Qui c'è qualcosa. Altra stella. Ok. Seconda. Pensavo fosse più difficile trovare. Invece sono facili. No. Perfetto. 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 Fatto ciò. Completiamo qui. E apriamo il passaggio. Il passaggio di questa zanzara che mi vuole pungere un occhio. Non si accontenta di un braccio. Ma... Mi vuole pungere un occhio. E... Accendiamo. Vai. Buttiamo giù sti due cosi. Sì. Io accendo tutto perché è meglio accendere che no. Qua si muoverà questa pedana? Sì. E qua ci sarà... Ah, un timbrino. Non una stella. Un timbrino. E quindi noi corriamo e andiamo di qua. Maledizione. 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 Allora, facciamo così. Non abbiamo tempo. Non abbiamo tempo. Non abbiamo tempo. Quindi facciamo così. Dobbiamo saltare solo su questo. Perfetto. Andiamo avanti. La terza stella. La terza stella non c'è perché siamo arrivati alla fine e non l'abbiamo presa. Però... Vabbè, la terza ce la siamo persa. Stella facendo. Non so dove sia finita. Va bene così. Va bene così. Prendiamo un altro adesivino. Ah, ne mancano tanti. Quindi saranno ancora tanti i livelli. Ci apre qui un bonus. Vediamo. Sì. Ce lo andiamo a prendere. Perché non abbiamo più niente da parte. Quindi... Un bonus fondamentale. Anche la roulette. Allora. Prima la roulette. Vai. Allora. Cerchiamo questa volta di beccare l'unplane. Prima a caso. Fiore. Nooo. Maledizione per uno. Maledizione. Weeeee. 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 3 app. Abbiamo forse 97 vite. Ehm. Ehm. Andiamo di qua. Abbiamo quest'altro bonus. Altro bonus. Questa volta il piccolo. Ehm. Vabbè ragazzi. Sono troppo forte. Troppo forte. Ehm. Ci teniamo con l'altro da parte. Va bene così. Sì. Mi piace un sacco il... Giocatore di rugby. Ok. Che... Tira i boomerang. E... E... E questo l'abbiamo fatto. C'è da fare questo. Let's go. Let's go. Carboni ardenti. Cento secondi. Cento secondi per noi. Ehm. Si corre. Si corre. Si corre. No. Di qua. Di qua. Ma perché me li sono buttati di sotto come un idiota? 50 vite. Allora. 50 ce ne abbiamo. Allora. Vai. Perfetto. Ah. Io vado di qua. Mamma mia. È tostissimo. Ok. Ho preso un attimo il ritmo. No. Ho toccato le punte. Eh. Quasi non me lo voglio sprecare. Il... Così non lì. Facciamo così. Ma... Intanto questa stella prima non l'avevo nemmeno vista. Giuro non l'avevo vista. Eh. E col turbo non si ferma. No. Quindi bisogna stare attentissimi. Una volta che si calpesta quella mattonella. Ok. Devo riprendere. No. Fatto inutilmente. Ma... Che salto mi ha fatto? Questo livello devo dire è insidioso. Forse conviene non correre. Vediamo se... Non correndo. È un po' più facile. Perché tengo premuto perennemente il tasto della corsa. E... Per abitudine proprio. Quindi... Proviamo a non tenerlo premuto. Ma... Ma... Corre comunque lo stesso. 50 video ce le fa... Prendiamoci. Aiutino. No. Questi aiutini ragazzi. Sono proprio aiutini... Gaming 2020 eh. Ma... Quanto salta lontano? Cioè prima ci è saltato sopra. Oh... God. Andiamo di qua. Perfetto. Ma... Di nuovo. Ci siamo già pappati 6 vite eh. Meno male vengono accumulate 50 per perderle tutte quante in questo livello. Che poi è semplice cioè. Non è che è difficile. Da basso di qua. Lo ignoro. Faccio così. La scorciatoia. No. Ma... Ho frenato per saltarci senza premere la mattonella. Perché si... Non ci posso credere cioè. Quanto devo perdere ancora? Un livello banale veramente. È banale ragazzi. È banale. Cioè... Capisco com'è possibile perdere così tanto. Giro. Lo prendo. Eh fermati fermati. Dove va? Adesso non mi ha preso però la punta. Cioè è allucinante. Succedono cose. Succedono cose. Dove va? Dove sta? Ma meno male guarda. Meno male che è finita. Meno male che è finita. Non lo vedevo più Mario. Non lo vedevo più Mario. Mero perso Mario Lino. Terza stella non presa. Mi pare. è triste. Abbiamo perso un bel po' di vite. Ma non è un problema. Abbiamo il circo qui. Il microcirco. Let's go. Let's go. Farfallina. Ah il circo è così. Easy. Prendiamo il timbrino. Lo mettiamo lì. Principata azzurra che indica. Indica. E noi riusciamo. Fieri del nostro adesivo. Che possiamo appiccicare sulla bacheca. E andiamo invece di qua. Cos'è? Ah si lo conosciamo già. Criomagma del bronco. Ok. Let's go. Facciamo di qua. Perché? Tutta questa strada ci ha fatto fare. No. 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 Ci doveva andare soltanto lui. Non pure io. Facciamo di ammocchiare qualche vita. E qui. Non riesce a fare le curve strette. Ok. Mi da qualcosa? Niente. Tempo sprecato proprio. E questo che vuole? Ok. Ok. Si ricompone. Come da tradizione. Andiamo di qua. No. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Volevo fare il taglio. Maledizione. Ma poi abbiamo capito che non mi da un bel niente. Quindi me ne infischio. No. Che ti colpisco. Non succede un bel niente. Ma. Ah. Andiamo di qua. Ci prendiamo la solita fiamma. Ma. Ma. Davvero? Ma. Allora. Ok. Basta fare lo sborone. E. Andare a casaccio. Su quelle caselle. Seguirò le frecce. Che mi sono stufato a cadere in questo magma rosa. Allora. Prendiamo questo. Non ce lo saltare necessariamente sopra. Qui. Ok. Basta la calma. E la tranquillità. Troppa tranquillità. Scendere un po' più rapidamente mi sa lì. Si va bene. Ci prendiamo l'aiutino. Ci prendiamo l'aiutino. Anzi. Sì. Dai. Teniamoci questo. Ci teniamo questo. Di qua. Di qua. Perfetto. Allora. Così. Ah. Ok. Devo rifare un altro giro. Con calma. Proprio con la massima calma. Accelerano. Vedete. Non hanno sempre lo stesso timing. Qui ci mostra che il traguardo. Dov'è? Non c'è. Il traguardo non c'è. Eh. Tu. Maledetto. Allora. Qui. Così. Andiamo di qua. Il timbrino ce lo prendiamo. Ma torniamo subito in pista. Di qua. Ah. Questa è proprio una cosa brutta. Di quelle proprio buggose. Quello sarà un bonus. Allora. Facciamo una bella cosa. Ci prendiamo il checkpoint. Non fa ruotare. Posso svolazzare. Allora. Eh. Perché qua ci voglio andare. Voglio vedere un attimo. Perfetto. Ah. Perché c'ho questo buggato brutto. Ok. Vabbè. A saperlo non ce lo prendiamo più sto coso. È troppo di aiuto. Per gente abile come noi. Mi schiaccia proprio. Prendiamo questo e ci prendiamo. Ah. Lo mette da parte. Andiamo di qua. Perfetto. Queste le abbiamo prese. Siamo arrivati alla fine. La terza. Chissà dove sta. Allora. E c'è proprio un'invulnerabilità. Cioè. Cioè. sta precipitando. Sta precipitando. Ok. Vabbè. Ce lo siamo fatti con l'aiutino. Stupido qui. A saperlo non lo prendevo. Lo prendevo. Un po' troppo. Smostra gioco. Cioè. Sta tuttina. Ok. Cubetto. Adesivo del cubino. E. A questo punto. Direi. Che ci sta lì avanti. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Abbiamo. Ah. Poi si trasforma nel normale vestito. Da scoiattolo volante. Abbiamo il castello. E questi tre livelli. Quindi direi di farci un livello. Così nel prossimo video ci facciamo. Eh. Due livelli e il castello. Oh. Anzi no. Ci facciamo questi boss. Rivincita con i ruzzoli. Let's go. E qui. Oh. Quanta gente. Oh. Oh. No. Fermatevi. Allora. Oh. Buttami un altro. E tre di quei cosi. No. 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 Maledizione. E' un casino qui. Ok, uno. No, no. Wow. Che schivatone. Via di qui. Dai, fammi uscire quei cosi. Via di qui. Beccati questa. Via. Via. Beccati di nuovo questa. Beh, è stata impegnativa questa, devo dire. Però da un minimo di difficoltà c'è stata. Ok. Il secondo. Let's go. Ok. 128. Vola via. Stordito il sasso. Rientro di qua. Abbiamo. Rivincita con principe bronco. Ok. Oh, oh. Come ho schivato quella cosa. Ah, gli devo dare una spintarella. Proprio un super mario piccolino. Ok, se lo aspiro. Prendiamo un altro calcio. Ah, basta andarli semplicemente addosso così. Uno. Cioè, come fa a non prendermi. Ma non so neanche ragazzi come fa a non prendermi. Due. Cioè, forse ti sto talmente vicino che. Non si sa. Forse basta solo colpirlo e neanche devo saltarci sopra. Questo è quasi banale. Ok. Rispetto a quell'altro che era di che era lunga più insidioso, devo dire. Ok. Perfetto. Ce l'abbiamo fatta. Va bene. Allora. Se per questo video ovviamente è tutto. Se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, un commento, fatemi sapere che cosa ne pensate. Io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video. Vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.